Benvenuto su Potenzialmente. In questo video ti mostrerò 10 lezioni di leadership da uno dei più grandi strateghi e leader nella storia, Napoleone Bonaparte. Cercheremo di apprendere il più possibile dal carismatico comandante militare e sovrano francese. Attraverso l'analisi delle sue azioni, decisioni e strategie capirai il segreto della sua straordinaria capacità di guidare e ispirare il gruppo. Lezione numero 1. La visione ambiziosa di Napoleone, oltre i confini dell'ordinario. Napoleone Bonaparte aveva una visione audace che andava ben oltre i confini dell'ordinario. La sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi lo ha spinto a superare le sfide apparentemente insormontabili. Egli credeva fermamente nel potere delle grandi idee e nel trascendere i limiti delle convenzioni. La sua visione ambiziosa si è concretizzata attraverso la conquista di nuovi territori e la trasformazione della Francia in una potenza globale. Napoleone ha dimostrato come una leadership con una visione ambiziosa possa spingere le persone oltre i loro limiti, ispirandole a raggiungere risultati eccezionali. Questo principio può essere applicato sia nella vita personale che in quella professionale. Ad esempio, nella vostra carriera sforzatevi di definire una visione chiara e audace per voi stessi o la vostra azienda. Comunicate questa visione al vostro team e incoraggiateli a superare le sfide con la stessa determinazione di Napoleone. Lavorando insieme verso una visione condivisa potrete raggiungere risultati straordinari e sorpassare le vostre aspettative. Lezione numero 2 L'arte della pianificazione strategica La pianificazione strategica è stata una delle abilità distintive di Napoleone Bonaparte. La sua capacità di prevedere e adattarsi alle circostanze emotivoli durante le campagne militari lo ha reso un genio strategico. Ha dimostrato l'importanza di analizzare attentamente il campo di battaglia e di adottare tattiche innovative per sconfiggere i suoi avversari. L'importanza della pianificazione strategica non può essere sottovalutata sia nel contesto militare che in quello aziendale. Pianificare con attenzione vi permette di anticipare le sfide future e di sviluppare soluzioni per affrontarle. La pianificazione strategica vi aiuta anche a identificare le vostre risorse chiave e a utilizzarle al meglio. Prima di continuare con le altre lezioni che ritengo di fondamentale importanza vi invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Lezione numero 3 Comunicazione carismatica e ispirante. Napoleone Bonaparte era un comunicatore carismatico e ispirante. La sua abilità nell'articolare un messaggio convincente e coinvolgente lo ha aiutato a guadagnarsi la lealtà dei suoi uomini e il sostegno del popolo francese. La sua capacità di ispirare gli altri è stata fondamentale per mantenere alta la motivazione delle sue truppe durante le lunghe campagne militari. La comunicazione carismatica è essenziale per ogni leader di successo. Imparate a trasmettere il vostro messaggio con passione e autenticità coinvolgendo le persone emotivamente. Utilizzate storie e metafore per rendere il vostro messaggio più memorabile e coinvolgente possibile. Ricordatevi di ascoltare attentamente i vostri dipendenti o membri del team e dimostrate empatia verso le loro esigenze e preoccupazioni. Questo vi aiuterà a costruire un forte legame con il vostro pubblico e a guadagnare il loro sostegno. Lezione 4 Adattarsi al cambiamento e alle avversità. Napoleone Bonaparte era un maestro nel gestire il cambiamento e affrontare le avversità. Durante le sue campagne militari si è trovato di fronte a sfide impreviste e cambiamenti repentini nel campo di battaglia. Tuttavia è riuscito a mantenere la calma e adattarsi alle nuove situazioni con determinazione. L'affrontare il cambiamento con determinazione è un'abilità cruciale per un leader di successo. Siate flessibili e aperti al cambiamento cercando sempre nuove opportunità. Imparate dai vostri errori e da situazioni difficili utilizzandoli come trampolino di lancio per migliorare le vostre strategie future. Ricordatevi che l'adattamento è essenziale per sopravvivere e prosperare in un ambiente in costante cambiamento. Lezione numero 5 Il potere del coraggio e della risolutezza. Il coraggio e la risolutezza di Napoleone Bonaparte sono stati fondamentali per la sua leadership. Ha dimostrato una straordinaria audacia nel fronteggiare situazioni pericolose e prendere decisioni difficili. Il suo coraggio gli ha permesso di affrontare avversari potenti e di conquistare nuovi territori senza esitazioni. Il coraggio è un elemento essenziale della leadership. Siate pronti a prendere decisioni difficili e a correre rischi calcolati per raggiungere i vostri obiettivi. Mantenete la calma anche sotto pressione e dimostrate risolutezza nelle vostre azioni. Lezione numero 6 Guidare con l'esempio Napoleone Bonaparte ha sempre guidato con l'esempio. Ha mostrato costantemente una dedizione incondizionata alla sua causa e ha condiviso gli stessi rischi e sacrifici dei suoi uomini durante le battaglie. Questo lo ha reso un leader rispettato e ammirato dalle sue truppe. Guidare con l'esempio è un principio fondamentale della leadership efficace. I membri del vostro team si sentiranno motivati ed energizzati se vedono che voi, come leader, siete disposti a mettere in gioco tanto quanto loro. Mostrate impegno e dedizione al vostro lavoro e mostratevi sempre disponibili ad aiutare i vostri dipendenti o membri del team. Il vostro esempio ispirerà fiducia e rispetto, costruendo una solida base per il successo. Lezione numero 7 La forza del perdono e della compassione Nonostante le sue dure campagne militari, era noto per perdonare i suoi avversari sconfitti e mostrare compassione verso i suoi soldati feriti. Questa umanità gli ha guadagnato la lealtà e l'ammirazione dei suoi uomini. Il perdono e la compassione sono segni di forza, non di debolezza. Come leader, mostrare umanità verso i vostri dipendenti o membri del team crea un ambiente di lavoro positivo e sostenitore. Essere aperti al perdono può anche creare opportunità per la crescita e il miglioramento. Dimostrate empatia verso i vostri colleghi e siate disposti a perdonare gli errori, incoraggiando così una cultura di apprendimento e sviluppo. Lezione numero 8 La gestione efficace delle risorse La gestione efficace delle risorse è stata una delle abilità chiave di Napoleone Bonaparte. Ha saputo sfruttare al massimo le risorse a sua disposizione, sia umane che materiali, per ottenere il massimo risultato possibile. Questa capacità lo ha reso un comandante estremamente efficiente e di successo. Massimizzare l'uso delle risorse è fondamentale per ottimizzare l'efficienza e raggiungere il successo. Siate creativi nell'utilizzare le vostre risorse disponibili, cercando sempre nuovi modi per ottenere risultati migliori. Prendete in considerazione le capacità e le competenze dei vostri dipendenti o membri del team e assegnate loro compiti in linea con le loro forze. Questo porterà una maggiore produttività e costruirà un ambiente di lavoro collaborativo e motivante. Lezione numero 9 La leadership come ispirazioni al cambiamento La leadership di Napoleone Bonaparte ha ispirato un cambiamento significativo in Francia e in Europa. Il suo carisma e il suo approccio innovativo alla governance hanno aperto la strada a nuove idee e riforme, cambiando il corso della storia. Come leader, cercate sempre di ispirare un cambiamento positivo nel vostro ambiente di lavoro o nella vostra comunità. Promuovete una cultura di innovazione, incoraggiate nuove idee e audaci. Condividete la vostra visione di un futuro migliore e coinvolgete il vostro team nel raggiungimento di questo obiettivo. Lezione numero 10 Il potere della persistenza e della determinazione Napoleone Bonaparte era famoso per la sua tenacia e determinazione. Non si è mai arreso di fronte alle avversità e ha combattuto con forza anche nelle situazioni più difficili. Questa persistenza lo ha reso uno dei più grandi leader della storia. La persistenza e la determinazione sono qualità indispensabili per raggiungere i vostri obiettivi. Siete pronti a superare le sfide con una mente resiliente e una volontà inamovibile. Imparate dai vostri fallimenti e rialzatevi ogni volta che cadete. La perseveranza vi condurrà verso il successo, permettendovi di raggiungere risultati straordinari che avete solo sognato. Continuate ad applicare queste lezioni di leadership nella vostra vita personale e professionale e sarete ben equipaggiati per superare ogni sfida e raggiungere il vostro massimo potenziale. La storia di Napoleone Bonaparte ci dimostra che la leadership autentica e ispiratrice può fare la differenza nella costruzione di un futuro di successo.